Arrestato ieri sera a Pescara dagli agenti della squadra volante coordinati dal dirigente Paolo Robustelli, un senegalese di 36 anni pluri pregiudicato per due rapine commesse e danni di due supermercati. L'extracomunitario, 36 anni, alto 1,80 m, con felpe e capuccioneri, con indosso un giaccone chiaro, con strisce scure e sulle maniche, si è reso responsabile della rapina gravata compiuta in un supermercato in via del circuito a Pescara. Nella serata di ieri il malvivente, sotto la minaccia di una pistola, risultata in seguito una scacciacani, ha intimato la cassiera di farsi consegnare tutto il denaro contenuto in cassa, circa 600 euro. Subito dopo la rapina, si è allontanato con una bicicletta. Sulla base della descrizione fatta dalla cassiera e dopo aver visionato le immagini delle telecamere di sicurezza, gli agenti hanno concentrato i sospetti su un noto tossicodipendente senza fissa dimora, già sottoposto alla semidetenzione presso il carcere di Teramo, misura sospesa a causa dell'emergenza Covid. Dottor Bustelli, sono stati visionati immediatamente i filmati che hanno dato riscontro di quanto è avvenuto? Sì, nell'immediatezza c'è stata la nota di ricerca di ramata alle volanti per la ricerca del soggetto che si era reso autore della rapina. Poi nel giro di pochi minuti sono state anche visionate le immagini da cui sono sorti i sospetti che l'autore potesse essere questo noto pluripregiudicato senegalese. Rintracciato nel quartiere di Rancitelli, il senegalese è stato sottoposto a perquisizione, trovato in possesso di 570 euro in contanti e 5 grammi di droga fra eroina e cocaina. Su indicazione del giovane, i poliziotti hanno poi recuperato il giubbotto che indossava al momento del colpo, oltre alla pistola Softair utilizzata per la rapina. Come ha spiegato il dirigente della volante, alla fine l'indagato, alla presenza del suo avvocato, ha confessato oltre alla rapina di ieri sera anche quella messa a segno sempre danni di un supermercato in via di Bastione a Pescara lo scorso 2 febbraio, quando erano stati portati via circa 500 euro. Il senegalese è stato tratto in arresto in flagranza di reato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.